Benissimo, il suo curingolo meraviglioso, ospedaliero responsabile di andrologia. Benissimo, allora invito a parlare la dottoressa Caterina Auriglia che è qui davanti a me, approccio clinico per la prevenzione, esperienza clinica. La dottoressa, io penso di averla già conosciuta perché lei lavora insieme al gruppo di Montano o collabora? No, qui no, per il gruppo di Pagli. Ah, di Pagli, ok, beh, allora, dottoressa, a lei? Buongiorno a tutti, mi presento, io sono un medico, sono specialista in medicina interna, esperto in omeopatia e fitoterapia, sono anche un medico ayurvedico, in sanscrito si dice un vaidia e mi occupo anche di nutraceutica, nutrizione, sono docente in vari corsi di formazione. A novembre, grazie al dottor Panni, appunto al direttore sanitario del poliambulatorio Sinergia, ho conosciuto tramite Giorgio Terziani l'apparecchio S-Drive. Questa presentazione mi è stata molto utile perché mi sono ritrovata con tutto il mio percorso precedente. Parliamo di vibrazioni, cioè parliamo di un concetto che è fondamentale nell'approccio della medicina tradizionale, parliamo di campo unificato, noi siamo abituati nella medicina convenzionale a settorializzare, a separare e quindi vedere il tutto in modo estrapolato, perdiamo il concetto di flessibilità e perdiamo il concetto di flusso. In realtà nel campo unificato, che è appunto il concetto che è stato tradotto dalla fisica ma che poi è stato anche applicato alla PNL e che rientra, risuona naturalmente anche nell'apparecchiatura S-Drive, il tutto è uno. Le varie parti non sono separabili, sono intercomunicabili e quindi questo tutto uno esiste perché c'è materia che noi possiamo comunicare, materia che noi possiamo scambiare. Quando introduciamo un alimento, piuttosto che il principale alimento che appunto è l'acqua, noi andiamo ad interagire con un piano estremamente archetipico ma anche sintetico che sono gli elementi, lo spazio, l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra. Questi sono dei concetti che vengono da tutto il mondo tradizionale, anche il mondo mediterraneo, mi piace molto l'archeologia storica medica e noi abbiamo una grande tradizione che abbiamo in parte seppellito negli ultimi millenni che io credo grazie a questo richiamo della biofisica possa essere rimessa in gioco e anche possa esserci data una chiave di interpretazione anche di testi estremamente antichi. Dunque in questo campo unificato noi scambiamo ma per avere la vita ci vuole un campo elettromagnetico originario, Ojas si dice in sanscrito. Il concepimento avviene se si forma Ojas. Il campo elettromagnetico poi determina la formazione degli elementi e la materializzazione su diversi piani. Che campo elettromagnetico si può formare se il concepimento avviene nelle vie naturali o se il concepimento avviene al di fuori delle vie naturali? Qual è l'Ojas? Qual è il campo elettromagnetico? Quindi prevenire da dove deve partire? Dal prenatale? Giocio Pagni è appunto il collega osfettrico e cinecologo. Quindi o sempre, o c'è una trasmissione, o siamo tutti in un campo unificato. Oggi come oggi noi stiamo creando un effetto di flusso sull'ambiente esterno. Noi stiamo creando un campo di forza che avrà sicuramente un effetto. Creeremo un movimento che bene o male avrà una sua azione anche intorno. Quindi ringrazio Giorgio Terziani e l'organizzazione per poter inserire anche questo aspetto fondamentale. E le mie relazioni sono relazioni con esperienze cliniche, ma che vogliono appunto richiamare tutta la storia, tutto il circuito del passato, nel presente, per gettare il punto al futuro e creare questo campo unificato. Bene, l'apparecchiatura S-Drive mi è stata presentata e ho detto beh provo, provo innanzitutto su di me, vediamo un po' se mi risuona, se la ritengo veramente efficace. E questo è accaduto a fine novembre. Il 20 dicembre, dopo esserci di nuovo risentiti con Giorgio Terziani, ho acquistato l'apparecchio, mi è stato consegnato e quindi dalla mia sperimentazione, poi sono passata a sperimentare su tantissimi altri casi e la sorpresa è stata sempre in continuo di venire. Qual è la sorpresa? Prevenire con un modello di biofisica, per me naturalmente, è entrare con una possibilità di oggettivare un fenomeno in uno spazio che io sento particolarmente soggettivo. Nella medicina tradizionale noi lavoriamo molto sul soggettivo. Come il soggettivo può entrare in contatto con l'oggettivo? Come un personale mondo ideale può essere oggettivato e comunicato? Nella comunicazione ognuno comprende ciò che vuole comprendere, ciò che la sua frequenza di dissonanza riesce a comprendere. Come possiamo noi oggettivare ciò che è soggettivo? Come possiamo da una parte creare una piattaforma di intesa e anche quindi di interazione? Dall'altra parte come noi possiamo entrare nel labirinto? Il problema nostro dal punto di vista medico è trovare la porta di ingresso. Molte volte ci perdiamo. La biochimica viaggia su alcune frequenze che per essere ben decifrate hanno bisogno di andare negli elementi più sottili. Il manifesto deriva dal non manifesto. Esistono vibrazioni manifeste, esistono vibrazioni non manifeste. La meditazione cambia il campo elettromagnetico completamente del corpo umano e la meditazione crea con un pensiero espresso nella mente senza che venga pronunciato una vibrazione. Quindi le vibrazioni sono un tutt'uno, sono un sistema di flusso con la materia più densa. Quindi spazio, aria, fuoco, acqua, terra. Noi in generale lavoriamo su terra e acqua. Terra e acqua convivano con il resto. Quindi avere a disponibilità di un apparecchio che mi permetta di oggettivare alcuni parametri e mi consenta quindi di estrapolare dei dati, di confrontarli con tutte le conoscenze precedenti anche di biochimica, per me è diventato estremamente interessante. Quindi campo unificato, vibrazioni. Ci sono molti lavori che si possono anche ritrovare su internet sulla cimatica. La cimatica è la scienza che studia i campi morfogenetici delle onde sonore. L'omeopatia lavora tramite la cimatica. I rimedi di risonanza lavorano in effetti tramite la cimatica. La cimatica fa anche vedere degli effetti molto grossolani, proprio agglomerati, formazioni e addensamenti, delle forme bellissime, forme armoniche o non armoniche, a seconda se le nostre frequenze per esempio risuonano in 432 Hz o meno, 444. Tra le varie mie attività io mi diverto anche a suonare l'arpa, l'antica arpa celtica, che è uno strumento che risuona sul cuore. E nell'armonizzare io uso 432 Hz, completamente diverso a risuonare sul cuore. Quindi noi siamo un sistema di flusso flessibile, fino a quando non abbiamo degli agglomerati, dei nodi, degli addensamenti, tossine in senso lato. Tossine che possono essere fisiche, endogene, esogene, metaboliti non smaltiti, effetti di radiazioni, interferenze elettromagnetiche, metalli tossici, ma può anche essere una tossina che si forma per un impatto genetico profondo che niente altro che l'effetto di precedenti manifestazioni epigenetiche, che quindi non permette all'organismo di tutelare il proprio self. Dov'è il self? Soltanto da un punto di vista strettamente immunologico? Nella medicina tradizionale il self è qualcos'altro. Ed è un self che può essere accrosciuto, addirittura può essere anche emanato. Questo self che può essere emanato, questo campo elettromagnetico, è un campo che può essere emanato e anche proiettato a distanza. Pensiamo alle antiche metodiche di trattamento, come anche il Qigong, che può essere seguito dalla Cina in qualsiasi altra nazione. Quindi noi possiamo perfezionare continuamente il nostro campo elettromagnetico, possiamo migliorare la nostra flessibilità o al contrario può accadere che tutto questo vada in un percorso invece di impoverimento, di addensamento, di formazione di nodi. Il nodo cos'è? La tossina cos'è? Ciò che non è riconosciuto. E quindi prevenzione vuol dire innanzitutto alimenti originari. Cos'è l'alimento originario? Ciò che è proprio per ogni specie. Introdurre l'alimento proprio dell'uomo, introdurre per gli animali un alimento proprio per gli animali. Per esempio in veterinari gran parte delle problematiche si osservano perché l'alimentazione non è specifica. Si mettono per esempio molti carboidrati in animali che di per sé sono piuttosto carnivori, per esempio i cani o i gatti o nivori. Quindi cos'è l'alimento originario? Un alimento GM è un alimento originario? Un alimento da innesto? Gran parte della frutta, grazie agli arabi, è da innesto. È un alimento completamente originario? Un grano? Senatore Cappelli? È un alimento originario? Soia? È un alimento originariamente specifico per gli uomini? È per tutti gli uomini? E questo sistema di flusso, questo riconoscimento, questa risonanza con gli alimenti originali è determinata soltanto da quello che è il campo della nostra stretta genetica? O abbiamo uno spazio di interferenza genetica ed epigenetica, quindi molto ampio, che è determinato dai nostri bioti, biota intestinale. Non si può esprimere solo come microbiota, nel biota intestinale non ci sono soltanto batteri. Sappiamo attualmente, grazie alla metagenomica, che nei bioti, che sono presenti nelle nostre cavità, ma il microscopio a campo scuro ci dice anche che abbiamo anche altre presenze, micro presenze, diffuse anche nei tessuti. Quindi, dov'è la nostra struttura? È sufficiente esaminare il nostro DNA? Fare un prelevo sulla lingua, un prelevo di sangue? O dobbiamo procedere ad una visione di sistema, ad una visione di flusso, ad una visione di campo unificato? Ogni volta che noi incontriamo ciò che riconosciamo, ciò che è sulle nostre frequenze, noi ci potenziamo. Ogni volta che noi incontriamo ciò che è al di fuori delle nostre coscienze, possiamo decidere di conoscerlo, possiamo decidere di entrare in un processo di scambio, ma è basilare che noi possiamo avere il rifornimento enzimatico, dove gli enzimi non sono soltanto quelli che abbiamo studiato in biochimica, che inizia vuol dire ciò che puoi digerire, fuochi digestivi, anche mentali, anche emozionali, è tutto materiale, è tutto strettamente legato alla terra, o molto la parte anche psicologica, o anche molto la parte mentale, emozionale. E quindi riconoscere a livello anche dei nostri sensi. I nostri sensi sono recettori elettromagnetici. Nelle medicine antiche, tradizionali, si studia e si fa esperienza durante le lezioni di come il sapore, l'odore, il colore, il suono, lo spazio, il campo elettromagnetico di un altro essere, umano, o anche di un animale, di una pianta, possono cambiare il nostro. Quindi campo unificato, sistema di flusso. Bene, l'estrive mi ha dato l'opportunità di unire tutti questi aspetti, di oggettivarli, quindi di poter collegare in un sistema di rete questa possibilità appunto ottimale di avere la visione globale, la visione d'insieme, l'oggettivazione ai livelli più sottili, da poter poi mettere in collegamento per il dato, anche biochimico, con gli esami di laboratorio, con quelli che possono essere esami strumentali. E quindi per me l'estrive è diventato anche uno stimolo alla ricerca, uno stimolo anche al riconoscimento. La tecnologia è frutto dell'uomo. Quindi lo spazio di ricerca, di avanzamento, è veramente infinito. Bene, esaminiamo due quadri clinici. Cosa è il sistema? Vado dall'altro lato perché mi è più facile esaminare. Purtroppo le foto sono venute all'oscuro perché il materiale è stato preparato in uno spazio dove non c'era molta luce. E anche questa è un'interferenza, non casuale. In genere nei primi incontri in cui io ho l'impatto con il pubblico nuovo, lavoro soprattutto con la parola. La parola è un campo importantissimo, segna lo spazio. Lo spazio e l'aria sono fondamentali per la vibrazione. La luce, quindi anche il colore, diventano poi fissanti. Quindi servono per fissare. Per esempio, cosa vuol dire prevenire? Prevenire vuol dire che noi possiamo adoperare una validazione con l'S-Drive anche in soggetto sano. Ma prevenire sappiamo che esistono diversi livelli di prevenzione. La primaria, la secondaria, la terziaria. Possiamo anche prevenire, anche nei casi estremi, quant'è l'età media possibile per un essere umano? Nei nostri tempi. Le scienze tradizionali dicono 120 anni. Si può arrivare a 120 anni indiscreta o anche buona salute. In effetti io ho conosciuto tra i miei maestri chi era arrivato anche in prossimità di 120 anni ed esercitava con perfetta lucidità ed in salute arrivare in buona qualità di vita. Noi siamo riusciti ad allungare quantitativamente la vita ma qualitativamente abbiamo RSA piene di pazienti con degenerazioni neuronali e incappiamo in patologie cardiovascolari la qualità di vita è estremamente inficiata. Bene, questi due casi sono casi avanti degli anni quindi sono casi anche con notevole terapia farmacologica di necessità però anche laddove abbiamo il tutto pieno laddove già abbiamo superato la soglia della prevenzione primaria possiamo prevenire possiamo prevenire gli aggravamenti. Malattia diabetica uno degli ultimi corsi cemico che ho tenuto un po' in giro per l'Italia è stata la diabetità grandissima patologia ormai estremamente incidente l'OMS ha dato l'allarme sulla sorveglianza ma dov'è il problema della diabetità? Dov'è il problema della malattia del diabete? Il diabete 3 ormai è riconosciuto come incidenza di danno neuronale è riconosciuta la presenza dell'enzima di degradazione dell'insulina che ha anche l'effetto di degradare quella che è la beta-amiloide cerebrale quindi un intervento sulla malattia diabetica non può essere esclusivamente direzionato sulla periferia non può essere direzionato soltanto sul controllo glicemico un'eritrocita con emoglobina glicata fuori scala è un'eritrocita che non riesce a scambiare ossigeno in periferia è un'eritrocita che trattiene l'ossigeno è un'eritrocita che ha subito un fenomeno di glicazione e la glicazione è niente altro che una espressione di stress radicalico stress ossidativo è la chiave di attivazione dello stress radicalico che si manifesta per esempio nel diabetico su più piani la glicazione, questo glucosio che incolla le varie molecole e ne perturba la struttura e attiva un'onda di radicali ma malattia diabetica vuol dire anche uno stress nitrosativo dall'ossigeno e l'azoto che viene coinvolto e quindi messo in sovraccarico l'ossidio nitrico e quindi è attivata anche la sintesi del perossi nitrito chi lavora in cardiologia chi lavora soprattutto dal punto di vista interventistico sa come quando viene riaperto un vaso è inaguato la produzione di perossi nitrito ma quanti di noi esercitano una prevenzione con self food per esempio nei pazienti con problematiche vascolari o cardiovascolari ancora prima di eseguire il fenomeno di ricanalizzazione nel momento estremamente delicato nella ricanalizzazione arriva poi successivamente gran flusso di ossigeno ma ossigeno con tutti i radicali con il perossido che era presente vuol dire formazione di perossi nitrito basterebbe eseguire un pretrattamento con il self food basterebbe già ottimizzare la situazione di ossigenazione la situazione di radicali liberi per ridurre quelli che sono molto frequentemente degli squilibri post riperfusione si possono osservare per esempio dopo una riapertura della carotide dei TIA, dopo una riapertura di una coronaria dei dati di ischemia cardiaca sono dei simboli di riperfusione dopo una ricanalizzazione di un arto di un'arteria quindi a livello periferico di un arto si può riosservare la comparsa di dolore quindi l'intervento diventa talmente interessante la prevenzione perché si tratterebbe di una prevenzione diventa possibile in tutti gli spazi quindi due casi abbastanza avanzati ma il diabete porta anche ad altro porta anche ad uno stress etiolico l'omocisteina quando noi seguiamo l'emoglobina glicata il dosaggio di un'omocisteina noi abbiamo già valutato in un diabetico sia la glicazione sia lo stress etiolico nello stress etiolico questa omocisteina, questo tiolo che è andata fuori scala cosa vuol dire? è andata oltre il suo limite non è più in equilibrio non rientra più nel sistema di flusso crea un nodo non digerito non riconosciuto ma l'omocisteina come tiolo e tutti i tioli lo stesso glutatione è un tiolo ha un'azione nell'equilibrio antiossidante, antiradicale libero ma quando è fuori scala come tutti gli antiossidanti diventano ovviamente ossidati e quindi pro malattia endoteliale pro attivazione di fenomeni di microtrombosi ma l'omocisteina non è soltanto rimetilazione osservato la diapositiva l'omocisteina è anche qualcos'altro l'omocisteina vuol dire anche la via di trasformazione verso la cisteina e quindi vuol dire da una parte verso il glutatione dall'altra parte vuol dire anche verso altre molecole pensiamo al connettivo pensiamo ai capelli pensiamo anche alle strutture correlate anche tendine ma anche indirettamente collagene quindi anche tessuto osseo, denti quindi questi sono parametri fondamentali per cui la prevenzione diventa sempre fondamentale allora esaminiamo questi due casi questo è un soggetto femminile di 80 anni in trattamento con farmaci neurologici per anomalie elettrocefalografiche in particolare una forma di epilessia apparentemente di NDD qual è la vera causa dell'epilessia? ma la conosciamo ancora veramente? sì, ci sono delle forme genetiche ci sono le forme mitocondriali ma come mai compare in una certa fase? come mai compare in un soggetto di 60 anni? dove anche il test genetico non dice che c'è un'espressione mitocondriale di predisposizione cos'è il nostro sistema nervoso centrale? è un'antenna, dice, trasmittente cosa siamo noi? antenna, dice, trasmittente e osserviamo quindi l'interferenza di vari parametri in questo caso vedete quante P P, 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 P la più importante acidi grassi resistenza al punto 2 minerale al punto 3 poi ci stanno anche sfide ambientali al punto 4 e vitamine al punto 5 quindi una persona che è sovraccarico su più forti P sta per priorità quindi sono aspetti da tenere in particolare considerazione il test non è quantitativo quindi se io poi osservo che per esempio nelle vitamine mi va a indicare vitamina C, B3, K1, K2 di necessità non è un indicatore di somministrare le vitamine non è un test quantitativo è un test qualitativo è un test biofisico è un test funzionale un altro caso che presenterò per esempio mi viene per un'anemia macrocitica già valutata in ematologia con folati nella norma vitamina B12 nella norma omocisteina nella norma il test mi segnala carenza di acido folico alimento originario nutraceutico originario quale nutraceutico indichiamo quale integratore indichiamo deve avere le frequenze che entrano in ristoranza ci sono due centri fondamentali del CNR e università Perugia e Padova che hanno elaborato pochi anni fa un lavoro estremamente interessante sui frattali con confronto di frattali di pianta originaria e di una pianta che è stata coltivata secondo metodologie intensive sono diverse le S-Drive io mi sono data questa spiegazione è una metodologia per leggere come una lettura dei frattali quello che è la nostra mappatura quindi l'S-Drive mi dice quantitativamente il metodo biochimico mi sta dando un'indicazione di valore nella norma ma perché questa paziente non risponde? Perché continua ad avere questa macrocitosi eppure viene somministrato acido folico nella giusta quantità eppure il valore ematico è nella norma dove è il problema? C'è un'altra via in cui c'è un iperconsumo di acido folico o il testo mi sta dando un'indicazione a livello di frattale cioè mi sta dicendo quell'acido folico che sta è chimico ma non è riconosciuto non entra in risonanza quindi addirittura anche nella scelta nutraceutica o anche nella scelta originaria per me è estremamente interessante l'appartenenza originaria è quella che per esempio possiamo valutare se noi assumiamo curcuma o se io assumo curcumina è completamente diverso se io assumo la curcuma estratto secco da pianta originaria proveniente dal suo territorio originario un territorio che è stato controllato anche a livello ambientale a livello di tossine io sto dando tutti gli elementi sto dando un campo unificato quindi sto dando spazio aria fuoco acqua terra ma se io estrapolo la curcumina io non do più un campo unificato sto dando una parte quindi sto dando una una freccia mirata che mi entrerà non in risonanza con tutto il campo unificato ma soltanto con alcune vibrazioni per cui avrà la sua efficacia ma non è quella di riequilibrare su tutti i piani avrà un intoppo non mi rientrerà su tutti gli elementi e io ho interpretato in questo modo ecco perché è da poco che lavoro su questi test ma sto elaborando dei programmi di punto di confronto con altri parametri perché per me è un appunto fondamentale alla ricerca all'ampliamento ed è una verifica di quanto appunto già mi viene dalla conoscenza della medicina tradizionale la medicina tradizionale mi dice si la curcumina può aver senso in alcuni casi ma se io voglio lavorare sul campo unificato sul campo energetico totale quindi su tutte le frequenze dalla più sottile alla più densa io devo lavorare con qualcosa che entri in sintonia con questo campo unificato e nel settore delle vitamine questo accade molte volte qual è l'origine qual è la provenienza da dove sono state estratte qual è la quantità anche la quantità è variabile noi siamo abbastanza variabili certo nella curva di Gauss oscilliamo entro certi parametri ma noi conosciamo veramente tutte le tipologie umane e anche qui il test ci può essere utile messo in rete anche con con le altre indagini per entrare nel futuro fin dove può arrivare l'essere umano fin dove arrivano le frequenze dell'essere umano qual è la potenzialità e quindi la prevenzione dove può arrivare si può arrivare 120 anni si può anche in un paziente che è politrattato ulteriormente avere un miglioramento avere un beneficio questo problema sulle K1 e K2 a me già fa pensare perché ovviamente al test poi si affianca l'anamnesi i sendi i sintomi quindi tutta la semiotica tutta la diagnostica anche di laboratorio strumentale e quindi grande curiosità perché deficit di K1 a K2 andiamo a vedere l'alimentazione le fonti ci sono ma forse saranno chelate perché io posso introdurre anche grande quantità di verdura a foglia larga ma se è piena di chelanti è bloccata o c'è qualche altra interferenza e K1 e K2 come gran parte delle vitamine idrosolubili cosa ci indicano biota intestinale noi somministriamo moltissime vitamine e molte volte forse avrebbe piuttosto anche la sua rilevanza valutare ancora prima come sta il nostro biota le vitamine servono qualora noi introduciamo degli alimenti o in quantità inadeguata per il nostro organismo o con vitamine chelate impoverite per esempio tutti gli alimenti che vengono eccessivamente spinti nella velocità la velocità è fondamentale nelle reazioni il frattale dove la velocità è spinta non è lo stesso è anche bruttarello ognuno di noi ha una sua velocità quindi anche l'est drive dà degli spazi di lavoro dà delle aperture non vincola non dà delle costituzioni rigide alle quali purtroppo secondo me noi siamo stati abituati anche nell'omiopatia per cui pensiamo di osservare i nostri pazienti e già soltanto visivamente fare diagnostica grande errore non è sufficiente io mi rendo conto che per esempio se esamino il sistema energetico il NADV Dian se esamino il polso il polso mi dice completamente ben alto perché noi partiamo soltanto nella valutazione esterna da terra noi dobbiamo invece entrare in un altro concetto dobbiamo entrare in tutti gli elementi dobbiamo partire dalla biofisica da quel nucleo che molte volte è mascherato e protetto questa persona in effetti aveva resistenza altissima in virus muffe spore e batteri qual era l'indicazione fare un esame metagenomico fare un esame completo del biota intestinale non era possibile per il territorio dove è residente la paziente però a questo punto la visione d'insieme gli dà più spazi acidi grassi acido linoleico acido e cosa pentainoico quindi l'acido linoleico è il precursore degli omega 6 l'acido e cosa pentainoico è EPA dopo viene il precursore degli omega 3 l'acido alfa-linolenico poi viene l'acido siaridonico poi l'EPA dall'EPA il DHA bene questa persona si nutre di pesce 3-4 volte alla settimana pesce si nutre anche di semi contenenti acido oleico perché mi risulta alterato perché mi risulta carente forse è ossidato forse sono ossidati e quindi la cellula non li riconosce non li legge perché in un'ossidazione è l'ossidazione di un acido grasso si occuperà poi il collega nell'ossidazione di un acido grassa è una completa trasformazione gli insaltori da cis a trans creano un blocco di flusso creano un'interferenza e questo è il problema o invece c'è un problema di digestione viene assunto l'alimento ma mancano tutte le tappe successive cioè biodisponibilità quando noi seguiamo una prescrizione quando noi somministriamo una prescrizione nutrizionale alimentare e nutraceutica la biodisponibilità molte volte non la teniamo in considerazione la biodisponibilità non è assoluta è relativa al paziente quindi dobbiamo personalizzare esaminare a livello della cellula arriverà e il nostro sistema nella biodisponibilità ha diversi step dal primo se è un alimento mastichiamo la tappa della bocca non è soltanto fondamentale per la milasi di sozima la tappa della bocca vuol dire dare proprio imprinting elettromagnetico noi abbiamo nella bocca una corrente elettromagnetica fondamentale che viene stabilita proprio dalle nostre arcate dentarie e se abbiamo un impianto e se abbiamo altri metalli e se non mastichiamo non stabiliamo l'imprinting elettromagnetico l'imprinting elettromagnetico è presente anche nella barriera intestinale l'interferone gamma che aumenta in condizioni di stress azzera la barriera elettromagnetica intestinale in condizioni di stress emozionale anche senza aver mai avuto un problema di biota noi abbiamo permeabilità intestinale e quindi se noi abbiamo l'input originario a livello della bocca la masticazione ci dà l'imprinting elettromagnetico quindi cominciamo a fare nostro abbiamo simili quando introduciamo acqua quando introduciamo un alimento motroacetico introduciamo qualcosa di simile ma per diventare nostro deve avere il nostro imprinting e quindi deve avere il giusto passaggio dall'acqua ovviamente tutto quanto viene attivato quindi questa persona sicuramente ha un blocco di interferenze in effetti questa persona assume in modo poco corretto questi acidi grassi sono ossidati e questa persona ha una problematica di dispepsia biliare quindi ha una bile non efficace nell'emulsionare nel creare quelle particelle che poi viaggeranno quindi chilomicroni attraverso le quali gli acidi grassi più lunghi vengono poi veicolati quindi da dove partiamo in questo sistema sicuramente alimentazione quindi possiamo allontanare per i tre mesi gli alimenti che risultano sensibili a livello biofisico che non necessariamente corrispondono a quelli a cui si può essere allergico o intolerante qua parliamo di livello biofisico è uno spazio ancora più più profondo e riequilibriamo nell'insieme sistema tutti i spazi prioritari quindi self food cambiamento del modello alimentare e trattamento del biota e ovviamente conseguenzialmente l'aspettativa di vedere modificati i vari parametri il litio mi conferma la problematica neurologica che cos'è l'epilessia se non un problema di voltaggio è un campo elettromagnetico che non ha mai pausa non riesce ad andare down quindi sta sempre per attivo il sistema gabaergico il sistema glutaminergico è qualcosa di più a livello di voltaggio e gli elettroliti soprattutto se sono vivi cioè elettroliti che possono essere ionizzati e quindi self food mi aiuta anche in questa possibilità di ionizzare il sistema mi aiuta a far ripartire il controllo ai tre mesi mi ha dato un riequilibrio delle priorità che sono diventate C quindi dall'essere necessario priorità è diventato consigliato quindi c'è stato un pattern insieme qual è l'obiettivo prevenire in un paziente di 80 anni poi l'ha trattato sì perché la qualità di vita può essere sempre migliorata si dice nella tradizione non c'è limite al benessere il concetto di salute non è soltanto l'assenza di malattie il concetto di salute è il benessere oltre il prevedibile perché l'essere umano ha innata questa sua potenzialità quindi il tutto è poter diventare sempre più umani nella massima qualitativamente pressione possibile grazie vedremo gli altri casi credici